Salve ragazzi e benvenuti in una nuova puntata qui su Studio Noisis, qui con me con Filmax. Oggi voglio fare due chiacchiere molto in tranquillità su qualcosa che però per molti di voi non è che lo strumento con cui Satana ha deciso di distruggere la bellezza e l'intelligenza nel mondo. Stiamo parlando del mio primo E-Reader. Spero che questo video ti piaccia, ovviamente ricordo che puoi sostenermi con l'iscrizione al canale che è totalmente gratuita e o con un mi piace o condividendo il video così mi aiuti a portare tanti altri contenuti come questo in maniera totalmente gratuita. Ma ora si parte. Lo sto usando ormai da diversi mesi e cosa devo dire? Alla fine sono passato anch'io dal lato oscuro della forza. Ma ovviamente visto che buona parte dei miei contenuti riguardano la bellezza e l'importanza dei libri è giusto prima di parlare dello strumento cercare di cambiare, cambiarci approccio alle E-Reader stesso che è stato proprio quello che ho fatto io prima di decidermi ad acquistarlo. Innanzitutto tutti i pregiudizi che abbiamo sulle E-Reader partono tutti dalle aziende che hanno creato e che vendono le E-Reader stesso. E questa è la prima vera follia. È vero che le E-Reader è il sostituto definitivo del libro? Cavolata. È vero che con le E-Reader hai solo vantaggi rispetto al libro? Doppia cavolata. Tutto ciò che hanno cercato di fare le aziende per convincerci a passare alle E-Reader è stato quello di convincerci che fossero in tutto e per tutto più belli, più comodi, più economici dei libri. Insomma, che i libri ormai non servissero più a niente. Questa campagna di marketing cosa ha scatenato? Beh, ovviamente una reazione in noi biblofili che viviamo per i libri. Automaticamente ci siamo sentiti come se ci avessero offeso un parente, la sorella, la mamma. Sei scemo? Cosa leggi sui libri? Questo è un po' come abbiamo avvertito noi la campagna pubblicitaria. Usa un praticissimo libro che non esiste. Insomma, marketing di quelli davvero fatti un po' coi piedi. Questo sempre per il solito motivo. Che il marketing non si fonda più su quel campione di clienti colti e appassionati che pur essendo una minoranza, perché effettivamente ci riconosciamo in una minoranza, riescono comunque però a far vivere ad esempio numerosissimi siti di libri usati. Perché noi amiamo comprare libri e questa minoranza vede nello strumento libro anche, come giustamente è, una valenza estetica che ci aiuta, che aiuta a suo modo nell'apprendimento. L'utente medio per cui è stato invece studiato il format ebook è l'italiano medio che di leggere non ne ha mezza, ma magari sul lettino al mare gli viene in mente che effettivamente quasi quasi il nuovo libro del Prince Perry se lo vuole sfogliare, allora tac, compra le reader. Uno, perché è più simile allo smartphone e due, nel tempo probabilmente ha maturato anche qualche sorta di allergia naturale a cellulosa. Ma questi utenti non si fidelizzeranno mai ad un prodotto del genere. Molto semplicemente perché se non te ne frega dello strumento libro o punti solo ai titoli da scaffale è difficile che tu sia un gran lettore e che te ne freghi più di tanto dell'industria libraria. A quel punto compri le reader, lo usi in estate, lo metti nel cassetto a settembre e l'estate dopo ti compri un libro per la spiaggia e le reader te lo sei già dimenticato. A questo punto, come avrei imposato io la campagna pubblicitaria? Innanzitutto facendo vedere che le reader è uno strumento totalmente diverso dal libro. È un suo completamento che in una soluzione comoda ti permette di avere il tuo libro con te anche se il libro te lo sei dimenticato a casa. Insomma per me prendere un reader è stato un completamento del libro, un suo complemento, un sussidiario. Detto ciò, le reader è uno strumento da lettura. Fine. Non si può studiare su uno strumento come questo. Solo avendo una cosa del genere fra le mani lo studioso non riesce a studiare. Molto semplicemente perché lo studioso ha bisogno di sfogliare, di navigare nel libro, di passare dalla pagina 1 alla 322 immediatamente, senza fiatare, con la possibilità di mettere segnalibri, di prendere note scritte sui margini, sebbene sia estremamente comodo. Non ha la capacità né la possibilità di essere consultato. Ecco perché il marketing, a mio modesto avviso, ha posizionato questo prodotto su una fascia medio-bassa perché effettivamente può coprire solo le letture facili, le letture istantanei, mentre non può aiutare quasi per nulla se lo concepiamo come un'opera sostitutiva del libro da studio. Ma proviamo a uscire dagli schemi e proviamo a immaginare che io vada alla Feltrinelli a comprare un bel romanzo. Mettiamo caso I demoni di Dostoevsky. Oppure come può essere questo bel saggio su Hegel, oppure un bel dialogo classico platonico come piace a noi filosofi. Io sono uno studente di lettere o di filosofia, faccio il pendolare, e ormai, visto che i libri costano a peso d'oro, per portarmi a casa queste tre opere ci lascio tra i 60 e i 70 euro. Essendo che sono opere diverse e di diverso tipo, magari me le voglio studiare o leggere in treno. La mattina, che sono più fresco, poniamo, leggo il saggio su Hegel, più impegnativo. In pausa pranzo, mentre mi mangio un panino, mi sfoglio il dialogo platonico, che tra l'altro abbiamo letto a lezione. La sera sono cotto e nel viaggio di ritorno mi leggo qualcosa di soft, un bel romanzo, I demoni di Dostoevsky. Se mi fossi portato dietro tutti questi libri, avrei probabilmente dovuto lasciare a casa il pranzo, perché nel mio zaino non ci sarebbe stato nient'altro. Mi sarei inoltre caricato due chili di libri, tutto il giorno, sulle spalle. Con l'aggravante che, con la qualità costruttiva dei libri di oggi, e con i prezzi che girano, li avrei rovinati, rischiano di romperli, o rovinarli proprio irremediabilmente, rompendo la brossura o la copertina. E comunque ci ho lasciato una settantina di euro per questi libri, quindi mi scocciano un poco rovinarli immediatamente. Ora, se ipotizziamo che tantissimi ebook nel tentativo di far partire un mercato che poi non è mai partito, perché era già agonizzante in partenza, sono spessi regalati o fatti pagare un euro, se come incentivo alla vendita del libro cartaceo, quando io mi sono recato da Feltrinelli, mi avessero detto, guarda che aggiungendo 1-2 euro al prezzo di listino del libro, avrai in omaggio anche la copia digitale per il tuo e-reader. Io magari avrei potuto rifiutare, ma sicuramente sarei stato tentato, perché i vantaggi sono davvero molti. E magari al terzo, quarto libro che compravo, stanco di perdermi questa offerta, mi sarei interessato per comprarmi davvero un e-reader. Questo per dire che il vero potenziale dell'e-reader, come io l'ho sperimentato, parte come un completamento del libro, non come una sostituzione. Se viaggio, mi posso portare in università 300 grammi di e-reader, anziché 2 kg di libri, tutti i giorni. Gli romanzi posso leggermi con il font e alla grandezza del carattere che voglio, senza diventare cieco o senza diventare matto. E alla fine, se ho già sia il cartaceo che il digitale, l'e-reader diventa anche un libro di studio. Ma perché? Beh, facciamo un esempio. Se ho il dialogo di Platone originale, o l'opera di Hegel originale, è vero che sull'e-reader non posso studiarci dall'inizio alla fine, ma ho vari strumenti di fortuna per segnare le parti che mi interessano. Poi successivamente andrò a trasporre sul libro ciò che ho annotato sull'e-reader. Insomma, se questo strumento fosse promosso per le sue vere capacità, penso che diventerebbe essenziale per tutti gli studiosi, perché è un aiuto davvero molto notevole, che ci facilita tanto il compito. Per tutti coloro che non possono studiare sempre a casa, seduti alla loro scrivania, seduti comodi, con la capacità anche di maneggiare libri molto voluminosi a volte, questo strumento, con tutti i suoi limiti, ti permette di portarti dietro quel libro che altrimenti avresti dovuto lasciare a casa. In definitiva, il mio giudizio, dopo 4-5 mesi che lo sto usando, è super positivo su tutta la linea. Questo sarebbe più un consiglio per gli uomini marketing, è un prodotto che va ricollegato, ricollocato sul mercato. Le aziende hanno creato uno scontro facendo del male, sia al libro, perché già chi non lo amava si è allontanato ancora di più. Mi immagino i ragazzi di terza media che sono obbligati a leggersi Pinocchio dal professore pedante di lettere, che almeno prima, con questa scusa, erano obbligate ad aggiungere un libro alla libreria. Oggi invece hanno 3 megabyte di EPUB che verranno prontamente cancellati dopo la verifica, per fare posto alla biografia della De Filippi rigorosamente della mamma. Inoltre, hanno fatto anche un disservizio all'ebook stesso, alle reader stesso, rendendolo uno strumento nell'immaginario collettivo per ignorantelli, uno strumento da spiaggia che ti serve per occupare un paio d'ore o ti serve prima di addormentarti la sera, riempendolo, facendolo riempire di pregiudizi e cercando di sponsorizzarlo facendo degli sconti su libri, ma libri che non li vuole neanche il pattume, perché sono libri scadentissimi, uccidendo anche quello che davvero di buono ha questo strumento. Per me avremo tutti da guadagnarci, a rinunciare a questa eterna lotta. Ma, dopo questo mio sermone, dimmi un po' te cosa ne pensi qua sotto e ovviamente non ti dimenticare di iscriverti e di lasciare un like. questo è anche un po' un post scriptum per la sezione dark web. Io ci tengo a dire che condanno fortemente la pirateria libraria, ma uno dei modi per rendere conveniente l'acquisto di un reader, almeno come io lo immagino, è quello di scaricare un ebook, non per favorire la pirateria, ci mancherebbe, ma per fare una prova, se quell'opera vale davvero i suoi soldi. Per fare ciò le case editrici potrebbero mettere a disposizione parte dei loro libri e non le prime sei pagine da aprire con l'anteprima di Amazon, di cui tre solo di indice. Dico un 25% dell'opera da scaricare, in maniera tale che davvero io posso sapere se i 35 euro che ho investito in questo libro sono o saranno ben spesi. Visto che non voglio sembrare un finanziatore del pirataggio dei libri, io prima di acquistare quest'opera l'ho prima consultata nella sua veste online. E questo semplicemente perché dato il prezzo davvero molto alto non volevo spendere 35 euro al buio per poi accorgermi magari che quell'opera non mi interessava e l'ho consultata prima online proprio per evitare dato il prezzo molto alto di spendere 35 euro al buio per poi accorgermi che quell'opera non mi interessava e non mi andava neanche di comprare il libro su Amazon purtroppo come fanno in tanti per restituirlo una volta che lo hanno letto o peggio ancora che l'hanno fotocopiato scannerizzato comunque io ho fatto fruttare questo investimento anche così se siete persone etiche e non c'è dubbio che una persona di cultura sia chiamata ad esserlo la possibilità della pirateria ognuno di noi sa che c'è ma d'altro canto sappiamo anche che se non vogliamo strozzare ulteriormente questo bel mondo dobbiamo usare sempre la testa contribuendo al mercato librario anche pecuniariamente detto ciò vi saluto e alla prossima e alla prossima Grazie a tutti.